Castello di Policastro fu costruito dai bizantini nel VII secolo d.C. La cattedrale è uno dei monumenti più antichi della campagna. La facciata è impreziosita da un'edicola in basso rilievo sovrastante il portale. Interno della chiesa. Tavolato dipinto del soffitto. Cripta con volte a crociera sorrette da quattordici colonne in pietra, nessuna uguale. Madonna linea nella cripta. La morte al centro che è stata distrutta sovrasta i poteri umani. Campanile romanico costruito nel 1167. Abside. Una miscela di materiali che la rivestono. Lapidi antiche nella costruzione. Vicolo con arco arabo. Colonna costruita con reperti di cinque periodi diversi. Strada romana ben conservata. Casa de Curtis. Totò. Interno della casa de Curtis. Cappella de Curtis. Le mura di cinta sono di epoca greca, 471 avanti Cristo. Porte d'ingresso alla città. Porte d'ingresso alla città.